Loro sono stati per me 14 volte campioni assoluti della classe master delle danze sport Loro sono Sandra, Filippi, Mirko e Meti E io vorrei fare un applauso doppio al maestro Mirko che scende in pista nonostante ieri, forse ancora oggi, abbia qualche linea di febbre Quindi davvero questo testimone ha la grande passione per il mondo delle danze sport, per i suoi allievi e per tutto quello che ha riuscito a realizzare Grazie al suo impegno, al suo amore e alla sua passione Sandra e Mirko sono in pista e ballano per voi una porca dal titolo Sandra F Questa porca è stata composta dai grandi maestri David Pacini e Paolo Pacini Sandra e Mirko con la loro professionalità, la loro grinta e il loro amore per le danze folk Hanno portato in giro per tutta Europa il folklore romagnolo Quindi davvero un grandissimo applauso a questa coppia di grandi campioni e di grandi maestri Scusate per l'interruzione ma ci diremo Questa porca si chiama Sandra F Bene, anche Sandra finalmente ha una porca dedicata a Dota Ballera Abbiamo voluto così inaugurare oggi Non potevamo non inaugurare Sandra Anche se avevo in 40 dovevo ballare uguale Io vorrei ringraziare David Pacini e Paci che ci hanno scritto questa bellissima porca Noi cerchiamo di portarla avanti, di portare avanti sempre le nostre tradizioni Sempre al ritmo del folklore e del calore romagnolo Grazie ragazzi Signore e signori Signori e signori per voi la polca Sandra F Eseguita per voi da maestri Mirko e Sandra Mirko la dedica con grande amore a 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 Sandra Quanta grinta con grande amore a Sandra Quanta grinta, quanto amore, quanta passione in questa porca del titolo Sandra F Magistralmente seguita dai maestri Sandra Filippi e Mirko Ermeti Insieme a tutte le fantastiche coppie della classe speciale della porta del polca Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Fennel Pacini e Paolo Paci. E sono i realizzatori della Volca Sandra F. Fennel Pacini e Paolo Paci in pista. I realizzatori e i compositori di questa bellissima Volca dedicata alla nostra maestra Sandra Filippi. Grazie.